Ciao popolo di Lega Nerd, voi che vedete qui tutti questi gadget, questi poster, queste atmosfere, avete già capito che siamo a Londra per il Junket di IT2 e per un'experience, questa qui, vi faremo vedere tutto quello che ci hanno mostrato, in cui diciamo ci hanno messo un po' paura, perché Pennywise è tra noi. Siamo infatti al Junket di IT2 che uscirà in Italia il prossimo 5 settembre, abbiamo parlato con Andy Muschietti, con Jessica Charsen e James McAvoy e vediamo un po' cosa ci hanno detto, ci sono delle curiosità molto interessanti, molto, molto. e poi è una buona, ragione, molto, 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 trattato, e poi ho ho pensato che sono solo massacredati in una fabbrica in Delauwea. Do you know what I mean? È vero? Io penso che. Le ricordate in Delauwea? I'm putting it out there in Delaware. People of Delaware, thank you for the fortune cookies, thank you for your fortunes. Do you look at fortune cookies in a different way now, after the movie? I'm more excited now. Mmm, when you see them. Yes, I'm getting bored of the usual paper message. I want to see an eye coming out of it, I think some sort of creature. The taste? Maybe the taste won't be so good, I don't know. It doesn't matter. It doesn't matter, okay. Non l'abbiamo fermato. Pennywise. Il clown. Non lascerò che succeda di nuovo.